Io credo che sia un grande sostegno quello di Beppe, poi chiaramente le nostre regole sono chiare, ci sono delle votazioni, io non mi sottraggo di certo, quindi continuo ad andare avanti, come sapete ho annunciato l'intenzione, la volontà di ricandidarmi già ad agosto dello scorso anno, io credo che sia un percorso molto lineare. L'ho fatto in massima trasparenza senza mai nascondere nulla e vado avanti in trasparenza come credo sia giusto. E ai consiglieri, 4 consiglieri, insomma, considerati dissidenti che cosa dovete dire? Noi stiamo tutti continuando a lavorare perché ricordo a me per prima che abbiamo ricevuto un mandato importante nel 2016 e quel mandato noi lo dobbiamo onorare e portare a termine, continuando a lavorare nell'interesse della nostra città, la città che in questo momento stiamo amministrando e mi sembra che da questo punto di vista ci sia molta solidità e compattezza e serietà, questa è la cosa principale.